Presidente, buonasera, peccato insomma, vittoria. Peccato, diceva mia madre, andare a rubare in chiesa e tornare a vuoto. Sono due peccati, uno che non ha rubato niente e l'altro che sono in chiesa. Com'è possibile questi ultimi dieci minuti una valanga di errori anche da chi è abituato a farli? Guardi, credo che rientri nella... quando dico che bisogna mettere a posto delle cose e preparare delle cose, è un difetto che abbiamo sin dall'inizio, quando noi siamo in vantaggio gestiamo male la nostra vittoria, ci distraiamo, qualcosa succede insomma, perché non è che sono solo gli altri a giocare, noi delle volte in certi momenti ci perdiamo, ora su questo bisogna lavorare. Vuole sapere cosa penso? Sfacciatamente? Vuole veramente la verità, nonostante è la prima volta che sono uscito dal campo e mi veniva quasi da piangere, vuole sapere, e io non sono una piange facile, vuole sapere cosa penso realmente, meno male hanno pareggiato all'ultimo minuto, perché almeno noi usciamo dal campo che abbiamo la voglia di piangere, meno male usciamo dal campo con la tristezza nel cuore e quindi lavoreremo in maniera più attenta, perché se quell'ultimo tiro non fosse diventato un gol, oggi saremmo tutti felici e forse trascureremmo questo secondo tempo che invece abbiamo sbagliato, dobbiamo correggere, stiamo ancora preparando i play-off, è quello che abbiamo già detto, dobbiamo puntare su questo, lo so che è difficile stasera digerire questa cosa ed è difficile anche digerire le mie parole, però pensate quanto è difficile digerirle per me che stavo lì seduto in prima fila, io ho detto che eravamo muti qua oggi per vincere e quindi io sono il primo grande sconfitto, perché come sapete non cambio idea, questo pareggio è una sconfitta, però meno male è arrivata questo pareggio, perché così tutti noi abbiamo consapevolezza delle cose da correggere. Si è trattenuto stasera con la squadra, è uscito subito, quindi immagino che aspetterà in settimana magari per parlare, rispetto alla partita con la Virtus Francavilla dove c'era stato un lungo confronto invece, no? Mi sono trattenuto con la squadra, ho parlato con la squadra, ho detto le stesse cose che ho detto a voi, le ho detto alla squadra, perché mi piace a fine partita avere con loro un confronto e gli ho detto di andare a casa, di capire come me abbiamo sbagliato, di ritrovarsi ancora e di non far diventare la giornata di oggi una giornata pessima, perché noi oggi se non stiamo attenti a gestire questo secondo tempo, questo secondo tempo ce lo potremo portare dietro per molto tempo, invece noi dobbiamo farlo diventare positivo, quindi ho parlato con la squadra, ho detto quello che io penso e sono convinto che la squadra piano piano capirà, tutti noi dobbiamo capire, perché io per prima ero in campo, guardi non abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti, 10 minuti schifosi, abbiamo fatto anche i primi 10, cioè siamo entrati in campo come quelli che vincevano 2-0 e questo è il nostro errore, è il nostro difetto, è un grave difetto, dobbiamo correggerlo, quindi ho parlato con la squadra e se vi interessa ho fatto anche i complimenti al Bisceglie, perché a questo punto spero che si servi, perché una squadra che pareggia con la Ternana si deve salvare, non può certo retrocedere, sono stati molto bravi, c'è stato però qualche tensione nel finale con i tifosi, se abbiamo visto bene, magari è un problema che può, con la squadra, con qualche elemento della squadra, se i tifosi hanno dato una testata, vabbè non ci può dire questa cosa, comunque arrivederci, grazie, ragazzi i tifosi erano un po' cazzati, buona serata